con la montagna che ha scritto e adesso interpreta un posto poetico. Era un caldo giorno d'estate, silenzio c'era in tutte le contrade, agli ordini del bosco i bersaglieri giunsero, ed improvviso a sedia il paese tutto c'è in sé. Otto malcapitati furono arrestati, senza prove, di brigantaggio furono imputati, a cui giovani ed increduli paesani fu contestato l'ordine del sindaco Andrisano. Per i dereletti fu decisa la vigilazione e a largo mercato avvenne l'esecuzione.